C'è il tavolo con Elena Hicken, che ha appena effettato un rilancio, 5.50, toglie un avversario, ed un altro che è Gianluca Trebbi, il suo ragazzo. Tutti cercano il flop, proprio Trebbi esce portando 650 al turn, su un board 10, 7, 5, 2, con due picche e due board. La Hicken non si fa problema a rinanciare sulla puntata del ragazzo. Mi chiede di non girare, avviato per la Hicken. Che è sui 18.000. Mi chiede di non girare.